Il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, hanno firmato il protocollo d'intesa per la valorizzazione della Torre Medievale di Palidoro, che ospiterà un museo dedicato a salvo d'acquisto. L'accordo prevede l'affidamento decennale e rinnovabile dell'edificio storico ai reparti dell'Organizzazione Territoriale e al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma, che si occuperanno dell'apertura al pubblico, della sorveglianza e della manutenzione del verde. Terminati i lavori di adeguamento, all'interno della struttura verrà allestito lo spazio espositivo, che dovrebbe essere pronto in tempo per il centenario della nascita di d'acquisto nell'autunno 2020. La Torre resterà di proprietà della Regione Lazio, che si occuperà della manutenzione straordinaria. Oggi è importante perché un manufatto storico molto importante, anche per la storia d'Italia, riprenderà vita nella memoria di salvo d'acquisto. È un altro segnale della collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la Regione, che ci ha portato in questi anni non solo a valorizzare bene i mobili, ma anche a rafforzare la collaborazione per la sicurezza. Perché sulla sicurezza non occorrono slogan, ma occorrono fatti, parlarsi e lavorare insieme. Come in questo caso è avvenuto con l'Arma dei Carabinieri e in altri casi con altre forze dell'ordine.